Movimento! Movimento! Movil! Controlli il libro dei lavori. Va bene, comandante. In questo ambiente si svolge il suo lavoro. Un lavoro molto delicato e di grande responsabilità che si riassume in due parole. Preparazione tecnica. Quanto? Quattordici mila libri. Arrivederci! A presto! Sempre all'aperto, sole e pioggia. Sempre in movimento. Come farà? Sotto sotto c'è Movil. Certo, e poi quel buon massaggio sulla pelle quando ti muovi. Per muoversi in libertà, per muoversi in salute ci vuole Movil che invece di assorbire l'umidità la trasmette all'esterno e mantiene il corpo sempre asciutto alla giusta temperatura. Ecco perché anche le tutine dopo un pomeriggio di giochi sono asciutte, asciuttissime. E per tante nanne serene, pigiamini Movil. Prodotti Polymer, Montecatini Edison.